Veniamo qui in studio alla giornata mondiale del suolo. Benvenuto al dottor Michele Munafò, benvenuto alla News24, responsabile per l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, esperto proprio di tutela della gestione del suolo. Cerchiamo di fare il punto con Matteo Parlato. In Italia tra il 2016 e il 2017 abbiamo cementificato 15 ettari di terreno al giorno. Secondo i dati dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'ISPRA, in questo periodo abbiamo asfaltato altri 54 km2 di territorio. Il suolo è una risorsa non rinnovabile e una volta impermeabilizzato è praticamente perduto. Negli ultimi 50 anni il nostro consumo di suolo è aumentato del 180%, ma non la popolazione. L'ISPRA, proprio su questa contraddizione, ha focalizzato la sua ricerca sul Lazio e Lombardia. Nel Lazio sono stati edificati 315 ettari di terreno a fronte di un calo della popolazione di 1.400 unità, di questi 36 ettari nel comune di Roma a fronte di meno 694 abitanti. In Lombardia abbiamo costruito per 603 ettari, con un aumento di popolazione di 17.000 unità. Di questi 19 ettari nel comune di Milano, con un aumento di 14.000 persone. In pratica, nota l'ISPRA, è come se in Lombardia si fosse costruita una nuova cittadina con 17.000 abitanti, mentre nel Lazio se ne è costruita un'altra di sole case. Una cementificazione slegata da necessità abitative che rende l'Italia, che è già geologicamente giovane, quindi fragile, ancora più vulnerabile a eventi meteorologici estremi, che in un periodo di cambiamento climatico, come quello che stiamo vivendo, sono sempre più probabili. Dottor Monafo, questi i dati ricordati da Matteo Parlato vostri, ISPRA, ma insomma, stiamo davvero esagerando? Beh, decisamente sì. L'Italia ha un territorio molto fragile, lo ricordava il servizio, un territorio che è in gran parte montano, un territorio sottoposto a fenomeni di dissesto, quindi una buona parte del territorio, più del 15%, in zone a pericolosità idraulica o da frana. In questo territorio molto fragile noi abbiamo impermeabilizzato, artificializzato il suolo con un tasso molto più elevato della media europea. Noi abbiamo un livello di consumo di suolo che è quasi il doppio della media europea, nonostante il nostro territorio sia decisamente più fragile del resto d'Europa. Questo comporta delle conseguenze che poi le cronache ci ricordano, ma anche delle conseguenze che noi spesso non consideriamo. Quelli che la stessa Commissione europea chiama i costi nascosti dell'impermeabilizzazione del suolo. Perché? Perché quando noi perdiamo il suolo e lo copriamo artificialmente, vuol dire di fatto perdere tutte le sue funzioni, le sue caratteristiche, i suoi servizi di cui noi spruiamo. Per dirne una, la produzione agricola non si può fare su un suolo che non esiste. Ma tanti altri servizi sono un po' più nascosti, tra virgolette. Perché? Perché quando non c'è il suolo l'acqua ad esempio non viene regolata, non si infiltra, non viene trattenuta dal suolo che in qualche modo è una spugna. E quindi quell'acqua scorre superficialmente aggravando i fenomeni di dissesto. Ma un suolo è anche un serbatoio di carbonio. In questi giorni si parla di clima, ovviamente. Il suolo contiene più di due volte la quantità di carbonio che c'è in atmosfera. Quando noi perdiamo questa capacità del suolo di stoccare carbonio, di fatto perdiamo questo serbatoio che viene rilasciato in atmosfera. E per riformare quel carbonio nel suolo occorreranno centinaia di anni. Noi quando scaviamo un suolo, se un suolo naturale scavassimo 20 cm di suolo naturale, arriveremmo a toccare il suolo che è stato calpestato dagli antichi romani. Perché per formare pochissimi centimetri di suolo ci vogliono centinaia di anni. Ci vuole molto tempo e quindi lei dice che le conseguenze poi si fanno sentire nel tempo. Ma tornando a quel dato che ci ricordava, della differenza che ci separa dal resto d'Europa, non è un po' anche dettato da una sorta di media del pollo. Cioè noi abbiamo un territorio che geograficamente in molte aree è difficilmente abitato. Ci sono molte montagne, zone difficili appunto per insediamenti. E qui però che cosa significa? Riusciamo a cementificare anche in questo caso e anche qui le conseguenze sono pesanti? Allora il consumo di suolo si concentra prevalentemente nelle zone di pianura. Il che vuol dire che nella media del pollo noi siamo tra virgolette svantaggiati. Perché? Perché se abbiamo una media complessiva più elevata del resto ma si concentra in una piccola parte del territorio, nelle nostre pianure le nostre percentuali arrivano anche a quattro volte la media europea. Il che vuol dire che si aggrava ulteriormente la situazione proprio poi dove vive la maggior parte delle persone e dove si concentrano la maggior parte delle attività produttive e dove si concentra la storia del nostro paese e dove anche il suolo è di migliore qualità, dove è più produttivo, dove è più fertile. Il nostro è uno dei suoli più produttivi al mondo e noi stiamo perdendo proprio questo suolo. Quindi abbiamo anche una responsabilità globale importante. Quindi lei dice là dove sono maggiori gli insediamenti è anche vero che proprio lì il suolo potrebbe dare un altro tipo di risultato e per questo va tutelato. Quali sono le richieste che muovete? Che provvedimenti dovrebbero adottare a livello di paese per tutelare il suolo? Allora l'Italia si è impegnata aderendo agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite a lavorare verso una neutralità del degrado del suolo. Questa viene chiamata a livello di Nazioni Unite. Ovvero raggiungere entro il 2030 quello che viene chiamato land degradation neutrality. Cioè non aumentiamo il degrado del suolo e quindi non aumentiamo ad esempio la impermeabilizzazione del suolo ma non aumentiamo i fenomeni di erosione, di compattazione, di contaminazione tutti quei fenomeni che fanno perdere questa risorsa ambientale fondamentale. Il 2030 è vicinissimo e questi 54 km2 di suolo che noi abbiamo perso in solo un anno in Italia ci fanno capire come siamo lontanissimi da raggiungere questo obiettivo. Quello che servirebbe è sicuramente un impegno formale che il Parlamento che sta discutendo ormai dal 2012 una proposta di legge nazionale sul contenimento del consumo di suolo potrebbe in qualche modo con urgenza a nostro avviso adottare e approvare per garantire che almeno ci sia uno strumento normativo vincolante e vigente su tutto il Paese. Grazie dottor Munafo per essere stato qui da noi, responsabile ISPRA proprio per la tutela del...